Per giustizia e questo è di cronaca, visto che abbiamo deciso che hanno vinto entrambe, dobbiamo dire che nel corso delle nostre puntate la persona che ha ricevuto più sms, diciamo che è stato un po' di totale, la persona che ha ricevuto più sms, abbiamo parlato di un punto o due punti, ci sono veramente pochi punti percettuali che è stato il nostro arello. Grazie. 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 a tutti quanti di non criticarci più, ma di guardare delle belle vengole e ci propone tutte le idee alternative, perché tante le critiche non ci aiutano, ma ci interessa molto di più a guardarci delle idee.